Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram o soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. I protagonisti di questa storia sono una coppia, si chiamano Mary e Stephen. Sono vicini su una terrazza di legno che li eleva su un paesaggio naturale, indossano abiti caldi e sorridono. Così una foto diffusa sul web ritrae i protagonisti di questa storia, i due fidanzati Mary e Stephen, immortalati prima che le loro vite cambiassero drasticamente. Comincio col raccontarvi meglio chi sono. Partiamo da lui. Stephen Freeman nasce il primo gennaio del 1995 e cresce a Griffin in Georgia. Vive con i suoi genitori Troy e Jennifer e con il fratello Blake. Trascorre un'infanzia felice, è un bambino solare e socievole, molto legato alla sua famiglia e ai numerosi amici. Tutti lo descrivono come una persona tranquilla e radiosa. Stephen non ha mai avuto problemi a dimostrare il proprio affetto verso il prossimo. Diventa un ragazzo dolce, gentile e disponibile. Ci tiene a prendersi cura di coloro che gli stanno intorno. Adora stare all'aria aperta e, anche se ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, ama particolarmente sua madre. Quando Stephen è ormai grande, la donna decide di tornare a scuola. Allora suo figlio le scrive un biglietto commovente, di cui vi riporto la traduzione. Sono così orgoglioso di te e ammiro tutti gli sforzi che ti ho visto fare negli ultimi due anni. Ci vuole un'enorme quantità di devozione, molto più della mia, per sopportare lo stress e la responsabilità che ti sei assunta. Ti ammiro ogni giorno per quello che hai fatto per me e per Blake. Se ti impegni puoi realizzare tutti i tuoi sogni, ti amo fino alla luna e ritorno. Sono certa che vi siete fatti una prima idea su Stephen, ma ora parliamo della seconda protagonista di questo caso. Mary Catherine Higdon nasce nel 1994, anche lei cresce in una famiglia amorevole e vive un'infanzia serena. Viene descritta come una bambina spensierata, solare e socievole. Rede spesso e le piace esibirsi davanti alla sua famiglia, improvvisando piccoli spettacoli. Adora la natura, gli animali, correre e dare sfogo alla sua creatività. Mary e Stephen dunque sembrano avere tanto in comune. Si innamorano perdutamente l'una dell'altro, si mettono insieme al liceo e diventano inseparabili. Trascorrono il loro tempo all'aria aperta, pescano, cacciano, spesso fanno escursioni e si accampano insieme. Dopo essersi diplomati al liceo, i due si trasferiscono insieme in una casa tutta loro, sempre a Griffin. Stephen trova lavoro come operaio metalmeccanico, mentre Mary lavora part-time come assistente insegnante presso una scuola di Milner. Per un lungo periodo lavora pure in un negozio di articoli sportivi, dove vendono anche pistole e dove è impiegato anche Thomas Skinner, il migliore amico di Stephen. Proprio Thomas riferirà che tutti i dipendenti del negozio dovevano imparare le regole di base sulla sicurezza delle armi prima di maneggiarle da soli. Dovevano sapere come utilizzarle, caricarle e come sparare. Infatti anche Mary ha imparato a svolgere queste operazioni. Non è un caso se vi riporto questa informazione, dunque tenete la mente. Anche Stephen ama le pistole, ne aveva possedute almeno dieci e in casa custodisce ancora una Glock. Stephen e Thomas hanno altri due amici molto intimi, Chase Pruitt e Andrew McKee. I quattro ragazzi formano un gruppo compatto, si confidano spesso tra loro, si preoccupano l'uno dell'altro, quindi anche delle persone che frequentano. Insomma, durante il liceo capita di perdere per un po' le tracce di un compagno, magari perché è invitato a una festa di amici di amici, è rimasto coinvolto in una storia con una ragazza. Ma gli amici di Stephen erano sempre stati molto presenti e fin dal primo momento avevano voluto conoscere Mary. Quando il gruppo l'aveva incontrata per la prima volta alcuni dubbi su di lei si erano sollevati, ma conoscendola meglio gli amici di Stephen si erano convinti che fosse una brava ragazza. Con lei si trovano proprio bene. Mary ha uno spiccato senso dell'umorismo, tanti hobby in comune con Stephen, dunque sono contenti per lui. Stephen è davvero felice quando sta con Mary e questo l'era serena. A dirla tutta anche la famiglia di Stephen ama molto Mary. Sua madre Jennifer la considera già come una nuora. Mary cena a casa di Stephen ogni domenica, in presenza non solo dei genitori del ragazzo, ma anche della nonna e di parte della sua famiglia allargata. Mary viene davvero trattata come una di famiglia. Arriviamo all'estate del 2018, quando Mary ha 24 anni e Stephen 23. Sono fidanzati ormai da 7 anni, continuano a vivere insieme anche se si erano lasciati per un breve periodo. Ormai si trattava solo di un ricordo, erano di nuovo l'uno accanto all'altra. Come sempre. La notte del 1 agosto 2018, però, Mary chiama disperata il 911. Dovete sapere che c'è un forte dibattito sulla autenticità dei sentimenti espressi in questa chiamata. Alcuni sostengono che suoni come una messa in scena, una farsa, altri invece credono che Mary fosse davvero nel panico totale. Alla luce di ciò che sto per raccontarvi, però, non è il tono, ma è il contenuto della chiamata ciò che conta. Infatti Mary grida al 911, per favore mandate subito qualcuno, ho accidentalmente sparato al mio ragazzo. Poi, le si sente ripetere. Guardami Stephen, guardami. Quando la polizia arriva sulla scena del crimine, la loro bodycam registra come si comporta Mary, quali sono i suoi movimenti. È chiaramente in difficoltà. Il suo ragazzo sta morendo davanti a lei. Mary dice di continuo che le dispiace e che non ha ancora capito come sia potuto succedere. Si dimostra isterica, piange, va in iperventilazione. È in preda al panico più totale e nessuno riesce a calmarla. Mary si inginocchia vicino al corpo di Stephen, implora aiuto e quando le viene chiesto di allontanarsi, si rifiuta e urla ancora, non posso perderlo, non posso perderlo. Anche queste riprese video sono oggetto di discussione. Alcuni credono che il comportamento di Mary sia artefatto, che stia recitando una parte, altri sono convinti che stia mostrando emozioni reali, perché è davvero disperata, visto che ha sparato accidentalmente all'amore della sua vita. In questo momento Stephen è ancora vivo e viene portato d'urgenza in ospedale. Il proiettile l'ha colpito al petto, appena sotto il collo. Purtroppo il ragazzo non riesce a sopravvivere, perde la vita in ospedale dopo due ore dall'arrivo dei soccorsi. La polizia a riguardo pensa che Stephen non sia morto a causa di un incidente. I detective sono convinti di avere a che fare con un omicidio. Quando Mary viene interrogata per la prima volta, dice alla polizia di aver sparato a Stephen accidentalmente. Afferma che, mentre gli stava porgendo la pistola, è partito un colpo. Non aveva idea che ci fosse un proiettile all'interno, perché non tenevano l'arma carica in casa. La polizia le chiede di raccontare più volte la sua versione dei fatti e Mary lo fa, fino a cambiare versione. Alla fine, afferma di aver lanciato la pistola a Stephen, non di avergliela passata. Fin dall'inizio la polizia non le aveva creduto. Un poliziotto in particolare in realtà ha molta esperienza con le armi da fuoco, soprattutto con le pistole, e sa che non basta passare l'arma o lanciarla per far esplodere un colpo. È necessario premere il grilletto. Inoltre, considerata la ferita di Stephen, sembra che Mary gli abbia puntato l'arma contro, in modo che il proiettile lo colpisse al petto. A conferma, le prove trovate sulla scena del crimine non fanno pensare a un incidente, ma un omicidio. Qualcosa stava accadendo in quella casa, prima della sparatoria. C'è cibo sparso ovunque, non solo sul bancone della cucina, ma anche per terra, come se i due fidanzati in preda a un litigio avessero iniziato a lanciarselo addosso. Inoltre, l'alito di Mary puzza di alcol. Dopo il suo primo interrogatorio, la polizia convince la donna a sottoporsi a un secondo interrogatorio, registrato in assenza del suo avvocato. Man mano che l'interrogatorio procede, i detective diventano sempre più aggressivi. Le urlano contro, dicendole che non credono alla sua versione, che farebbe meglio essere onesta e a confessare la verità. Alla fine, c'è da dire che la tattica dei detective funziona, perché Mary ammette di aver sparato a Stephen per rabbia. Quindi, il caso è chiuso, no? Hanno una confessione sua registrata, giusto? In teoria sì, ma quando Mary viene arrestata e accusata di omicidio, la polizia torna a riascoltare il nastro e si rende conto che la registrazione è compromessa, si sente soltanto un rumore bianco e non esistono registrazioni di backup. Questo nastro doveva costituire la prova più importante, l'unica che i detective avevano per chiudere il caso. Ora hanno soltanto la parola dei due detective contro quella di Mary. In realtà possono ricorrere ad altre informazioni in loro possesso per far emergere la verità. I detective, infatti, hanno la certezza che la pistola è stata caricata proprio la notte in cui Steve è venuto a mancare, nonostante Mary afferma di non sapere che fosse carica. Mary, quella sera, per cena aveva preparato una grigliata molto condita. I detective hanno notato che anche la pistola era unta, soprattutto il caricatore, il che dimostra che l'arma era stata caricata dopo aver cucinato la cena. A seguito di ulteriori indagini emerge che la polizia era stata chiamata a casa della coppia per ben cinque volte nell'ultimo anno, due delle quali per segnalare una violenza domestica. La polizia a questo punto decide di interrogare gli amici più cari di Steven e tutti sono certi che Mary gli abbia sparato di proposito. Nel tempo la loro valutazione sulla ragazza era cambiata. La loro relazione viene descritta come particolarmente tossica. Mary, al di là delle apparenze, era possessiva, gelosa verbalmente, violenta e anche instabile. Litigavano spesso, Mary urlava sempre addosso a Steven, che allora, per sedare la lite, usciva di casa. Tuttavia Mary non si dava pace, lo tempestava di chiamate messaggi, tanto che Steven era costretto a bloccare momentaneamente il suo contatto. Un collega di Steven viene intervistato e afferma che in un'occasione era in macchina con lui, diretti al lavoro. Non erano neanche arrivati sul posto, che Mary l'aveva chiamato più di trenta volte. Gli amici di Steven riferiscono che lui aveva paura di Mary, perché lei gli aveva già puntato contro la pistola tenuta in casa altre tre o quattro volte. Prima non l'aveva mai denunciata alla polizia perché l'amava davvero e non voleva che finisse nei guai. Tuttavia, a luglio del 2018, Steven era finalmente pronto a lasciare Mary Catherine. Aveva deciso di andarsene il 3 agosto, ma è morto il primo giorno del mese. Il suo piano era quello di trasferirsi in un'altra città, pur nascondendo a Mary che se ne sarebbe andato, proprio perché aveva tanta paura di una sua reazione. Il 30 luglio, appena due giorni prima che Mary sparasse a Steven, i due si erano scambiati dei messaggi molto dolci. Tuttavia, il giorno seguente, la coppia aveva litigato ferocemente, Mary gli aveva puntato la pistola contro e Steve, guardandola negli occhi, aveva seriamente temuto per la propria incolumità, perché Mary sembrava realmente intenzionata a sparargli. Dunque Steve si era allontanato da casa ed era stato ospitato da un suo amico, al quale aveva confidato che stava letteralmente scappando da Satana. La sera successiva Mary quindi aveva cucinato una grigliata per scusarsi del modo in cui aveva agito durante la discussione. Sperava che Steven tornasse a casa per cena, voleva che mangiassero assieme per parlare della situazione. Alla fine le cose si sarebbero risolte, come al solito. Mary ci sperava. Ma Steven quella sera non era rientrato a casa per la cena e questo aveva fatto arrabbiare Mary tantissimo. Quando viene interrogata sulla vicenda dalla polizia, dice che era semplicemente irritata dal fatto che avesse preparato un buon pasto che Steve però non aveva voluto consumare con lei. Così aveva iniziato a chiamarlo e inondare il suo cellulare di messaggi come al solito. Era arrivata addirittura a telefonare sua madre. Magari Steven era lì da lei. Ma la signora Jennifer aveva rivelato a Mary che Steve era a casa del suo amico Thomas. Allora la ragazza, senza pensarci due volte, era salita in macchina per raggiungerlo. Thomas e Steven erano già usciti di casa. Thomas stava guidando senza meta il suo camion. Steven sedeva sul sedile del passeggero. Mary nota il camion e inizia a seguirli. Si avvicina molto e era praticamente attaccata al paraurti del camion. Poi si accosta da un lato, abbassa il finestrino e inizia a urlare a Steven. Vuoi tornare a casa? Thomas ricorda che Steven a questo punto sembrava ormai arreso. Si sentiva proprio sconfitto. Le aveva infatti risposto che sì, sarebbe tornato a casa. Due ore dopo il ragazzo viene ferito da un colpo di pistola. Si ipotizza che Steven fosse tornato a casa perché gli premeva a troncare definitivamente il rapporto tossico che aveva con Mary. Probabilmente era questo che aveva fatto infuriare la sua ragazza. I due avevano rincominciato a litigare, Mary forse aveva scaraventato a terra la cena e infine, come già fatto in passato, gli aveva puntato la pistola contro. Ma stavolta aveva sparato, aveva premuto quel grilletto e Steven era morto. Arriviamo al processo. Mary è accusata di omicidio, aggressioni aggravate e possesso di un'arma da fuoco durante la commissione di un crimine. Era letteralmente infuriata, ha perso il controllo e ha sparato. Le viene offerto un patteggiamento. Se si fosse dichiarata colpevole sarebbe stata condannata all'ergastolo ma con la possibilità di ottenere la libertà condizionale. Mary non accetta l'accordo e al processo si dichiara non colpevole per legittima difesa. Non aveva mai voluto ferirlo. Aveva dovuto sparare a Steven per salvarsi, secondo la sua versione dei fatti. Mary Catherine viene rappresentata da difensori pubblici i quali dicono alla giuria che in realtà l'imputata aveva paura di Steven perché era lui quello che la maltrattava. I pubblici ministeri non hanno un nastro da cui risulti la confessione di Mary quindi possono soltanto appoggiarsi alle prove fisiche raccolte nella casa del delitto come la pistola sporca di unto e la cena ben condita di olio preparata dall'imputata. Queste due informazioni, come detto, sono collegate a un ennesimo dato rilevante. La pistola era stata caricata. Inoltre l'accusa chiama a testimoniare tutti gli amici di Steven. Mary, dal canto suo, appoggiata dai difensori, sale sul banco dei testimoni per raccontare alla giuria il suo punto di vista sugli eventi e sulla lunga relazione con Steven. Afferma che lui a volte agiva come un maniaco del controllo, era un manipolatore ed era anche pericoloso. Un lato di cui, però, nessuno è a conoscenza. Mary sostiene di aver subito ogni tipo di abuso da parte di Steven, sia verbale sia fisico. Dice che le aveva fatto violenza intima in due diverse occasioni, che l'aveva spinta sull'orlo della follia proprio a causa del modo in cui la trattava. Insomma, nella versione di Mary, era Steven a tartassarla di chiamate e messaggi. Voleva sapere costantemente cosa stesse facendo, dove fosse e con chi. Le chiedeva se stesse spendendo dei soldi e, in caso affermativo, per quale ragione. A detta della sua ragazza, il suo compagno arrivava addirittura a chiederle più volte cosa stesse mangiando. Aggiunge che una volta, mentre era seduta sul letto, Steven l'aveva presa a calci. Lei era caduta e aveva sbattuto la testa a terra. Mary spiega che non ha mai chiamato la polizia perché aveva paura, perché sapeva che alla fine si sarebbe data la colpa dell'accaduto. Avrebbe detto che era stata lei, con i suoi comportamenti, a spingere Steven a reagire male. C'è inoltre un'altra importante prova a favore di Mary, ovvero tutti i messaggi di testo scambiati tra lei e Steven, in cui lui le si rivolgeva con toni estremamente volgari e minacciosi. Questi messaggi risalivano all'anno precedente, un totale di 63 pagine che mostravano quanto Steven fosse verbalmente violento con Mary, al punto che la polizia ha preferito non rivelarne una gran parte al pubblico. Risalta un messaggio che Steven ha inviato a Mary quando era a pescare con i suoi amici. Il contenuto era una foto in cui il ragazzo appariva con in mano un pesce appena pescato, corredata dalla scritta «Questa sei tu, puttana». In un altro messaggio scriveva «Ti distruggerò perché sei tu ad avermi distrutto». Si riferiva al fatto che Mary lo aveva tradito e lui l'aveva scoperto. Ancora Steven le scriveva «Più stronzate dici, più verrai punita quando torno a casa». Quando il tribunale chiede a Mary cosa intendesse Steven con «verrai punita», lei spiega che sarebbe tornato a casa e le avrebbe urlato contro, chiedendole con rabbia perché non riusciva a essere una ragazza e una fidanzata migliore. Mary come sempre avrebbe fatto tutto ciò che le ordinava Steve perché se non avesse seguito le sue regole, lui l'avrebbe aggredita fisicamente, l'avrebbe schiaffeggiata, presa a calci e a pugni. Mary si è dei lacrime sul banco dei testimoni. È crollata ripetendo questi episodi. Afferma che se avesse mai provato a difendersi, lui le avrebbe detto, come già accaduto in altre occasioni, «Non provare a colpirmi. Se lo fai, sarò io a colperti più forte». Mary rivela anche che Steven aveva una stanza rossa che secondo la sua versione usava quando voleva consumare rapporti intimi e aggressivi. Infatti in quella stanza aveva abusato di lei. La obbligava a fare cose che non le piacevano col solo fine di infliggerle dolore. A questo punto lo ammetto, ho pensato che Mary avesse preso un po' troppa ispirazione da 50 sfumature di grigio. Ma c'è un altro aspetto importante che vorrei sottolineare. Steven non era più in vita, quindi non poteva difendersi dalle accuse di Mary. Lei raccontava la sua versione dei fatti senza che potesse esserci un contraddittorio, quindi è impossibile accertare se stesse dicendo la verità oppure no. In un altro messaggio Steven le scriveva «Mi manchi troppo, sto tornando a casa e sta per mettersi male per te, andrai nella stanza rossa». Io lo dico, a me questa sembra davvero una frase presa dal libro 50 sfumature di grigio, sul serio, ma anche di rosso, di nero. Cioè, non sembra reale, sembra troppo simile a una storia, tra l'altro anche brutta. Io lo dico, onestamente questa frase mi ricorda troppo la saga delle 50 sfumature. Insomma, mi sembra proprio che questa storia, almeno questa parte di storia, e la storia che si può leggere nei libri di 50 sfumature sia troppo troppo simile. Anche il nome «Stanza rossa» viene usato anche nel libro. A questo proposito Mary afferma che Steven aveva esercitato violenza su di lei in due diverse occasioni. La prima è la seguente. erano appena tornati da una vacanza a Disney World e stavano avendo un rapporto intimo che però a Mary non piaceva. Steven lo conduceva in modo troppo aggressivo, così gli aveva chiesto di smetterla. Tuttavia, sempre secondo la versione di Mary, Steve non si era fermato. Anzi, gli aveva detto «Ti ho comprato un sacco di cose a Disney World, quindi ora mi darai quello che voglio, mi darai ciò che merito». Quanto alla notte in cui ha sparato a Steve, Mary afferma di averlo fatto, ripeto, per legittima difesa. Dunque, le cose erano andate in modo completamente diverso da ciò che la polizia pensava. In realtà, dice Mary, era stata lei a rompere con Steve dopo avergli preparato la cena. E solo io lo trovo improbabile. Ti preparo la cena e poi ti mollo. Ma che senso ha? Ed era stato proprio lui a dare di matto. Aveva iniziato ad attaccarla, allora lei aveva afferrato la pistola per difendersi. Steven aveva reagito dicendole «Vattene fuori da casa mia». Poi si era lanciato contro di lei per farle del male. Ecco perché Mary aveva sparato. In realtà, c'è da dire che le prove forense dimostrano che Steven era seduto in un angolo del letto quando Mary gli aveva sparato. Non si era mai alzato e neanche mosso. Mary lo aveva colpito mentre era fermo e lui era caduto all'indietro, sul letto. Sia la polizia che la famiglia e gli amici soprattutto di Steven non credono ai racconti di Mary. Era lei che stava dando di matto e era uscita di casa e aveva seguito Thomas e Steve intimando quest'ultimo di tornare a casa. Era stata lei a preparare la cena nella speranza di riappacificarsi con Steve. Era lei che voleva scusarsi con lui e non il contrario. Gli amici e la famiglia di Steve che lo conoscevano bene sanno che lui era una persona davvero straordinaria, buona, premurosa dal temperamento rilassato e non violento. Steve non era il mostro aggressivo che Mary sta dipingendo in tribunale. Chiariamo, la madre del ragazzo, Jennifer, ammette che non è orgogliosa di suo figlio per via dei messaggi aggressivi e violenti che aveva spedito a Mary, i quali costituiscono un dato di fatto, una prova. Tuttavia Jennifer crede che suo figlio gli avesse spediti in alcuni momenti di rabbia, non perché volesse davvero minacciare la sua ragazza. Gli amici di Steve intervengono per definire come tossica la relazione tra lui e Mary perché lei era fin troppo problematica. Ripeto, purtroppo Stephen non c'è più, tutto ciò che Mary ha raccontato di lui in tribunale non può essere smentito ma nemmeno provato. Il processo quindi si complica sempre di più. Gli amici di Stephen insistono che era Mary quella violenta fisicamente, lo prendeva a calci e a pugni mentre mai avevano visto Stephen alzare le mani contro chiunque. Insomma, non era un ragazzo aggressivo, i messaggi provano soltanto che era arrabbiato e nell'ultimo periodo anche tanto spaventato. Per questo voleva mollare Mary e sparire letteralmente, trasferirsi in un'altra città senza che lei lo venisse a sapere. Tuttavia, la difesa ribatte che gli amici di Stephen non avevano mai visto cosa accadeva in casa della coppia. Di conseguenza non possono essere sicuri che Stephen non avesse mai trattato male o aggredito Mary. Era probabile che quando succedeva se succedeva lui preferisse non raccontarlo. La difesa inoltre sottolinea che Stephen aveva problemi con la dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol che aveva contribuito ai suoi scatti d'ira. Mi pare assurdo che questa circostanza questo fatto non sia emerso prima ma tant'è. L'accusa alla fine solleva l'attenzione della giuria su un altro importante messaggio di testo che Stephen aveva inviato a Mary in cui scriveva mi hai già puntato una pistola contro più volte ma l'ultima volta mi hai spaventato a morte. Mary Mary riferendosi agli episodi citati nel messaggio sostiene ascoltate attenzione che intendeva sparare a se stessa non a Stephen non aveva mai minacciato di sparargli ma gli diceva che si sarebbe colpita da sola. questo è il motivo per cui gli amici della famiglia di Stephen pensano che il ragazzo abbia portato avanti questa relazione Stephen aveva paura che Mary si sarebbe tolta la vita se l'avesse lasciata. I pubblici ministeri ritengono che Mary abbia alterato la sua storia almeno dieci volte dal momento in cui era stata interrogata per la prima volta. ciò nonostante Mary Catherine Higdon viene dichiarata non colpevole e viene assolta da tutte le accuse nell'udire la decisione della giuria la corte e tutti coloro che facevano parte della vita di Stephen sono rimasti senza parole credono fermamente che Mary gli avesse sparato e l'avesse ucciso di proposito ma devono scontrarsi con l'assenza di prove sufficienti per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio il perché Mary avesse colpito Stephen non si può provare che si tratti effettivamente di omicidio o di legittima difesa non si può provare che tutte le accuse contro Stephen siano vere o no e lo stesso vale per quelle rivolte contro Mary Catherine pertanto lei è stata assolta ha sempre detto che amava tanto Stephen e che mai avrebbe fatto qualcosa che potesse ferirlo che la verità è nel suo cuore ragazzi ho finito di parlarvi di questo caso l'ho trovato controverso e interessante per questo ve l'ho portato perché effettivamente se stiamo a guardare i fatti non abbiamo cioè non ci sono prove che possano dirci con certezza ok Mary sta mentendo e Stephen era un angioletto o viceversa molto probabilmente erano tossici entrambi in modi diversi e alimentavano questa relazione con dei comportamenti totalmente errati i messaggi di Stephen ad esempio sono inquietanti non possiamo affermare che quelli erano messaggini così certo magari era arrabbiato come una iena per motivazione x che noi non sappiamo però comunque quei messaggi restano e sono comunque arrivati al processo sono stati letti durante il processo e hanno aiutato in un certo senso a rendere un po' più credibile la versione di Mary Catherine secondo me ma voi che cosa ne pensate di questo caso lo conoscevate fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate perché sono molto curiosa questo non è uno di quei casi in cui è tutto bianco o è tutto nero e ci sono le prove quindi è impossibile fare magari altre supposizioni questo secondo me è un caso che proprio è nella sfumatura del grigio non si sa bene cosa sia successo quindi sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate come al solito ci becchiamo nei commenti detto questo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti